Buonasera, oggi parleremo della vascolarizzazione del cervello e di quelle che sono le sue patologie. Intanto il sangue al cervello arriva dal cuore ovviamente attraverso due diramazioni dall'arco della orta, la arteria carotide che poi si distingue in arteria carotide esterna ed interna e l'arteria succlavia dalla quale parte l'arteria vertebrale che irrora la parte posteriore del cervello. Arrivato nel cervello queste arterie si diramano in tanti rami più piccoli che via via perforano le parti del cervello sia la corteccia che la sostanza bianca fino ad arrivare alle parti più profonde attraverso la microcircolazione cerebrale e attraverso i vasi capillari per costituire quella che si chiama la unità neurovascolare. Da che cosa è rappresentata questa unità neurovascolare che ha una importanza enorme nel nutrimento, nel portare l'ossigeno al cervello, nel portare le vitamine e tutte le sostanze che servono per la funzione delle varie cellule che contribuiscono alla normale funzione del cervello. Abbiamo i vasi, questi piccoli vasi, questi vasi capillari che sono formati da cellule endoteliali. Queste cellule endoteliali hanno dei pori che consentono la fuoriuscita, di questi micronutrienti, di queste sostanze che vengono catturate dalle cellule perivascolari e vengono catturate dalle cellule astrogliali che hanno un ruolo importantissimo e trasferite agli assoni, alle cellule nervose, alla mielina e quindi portano l'ossigeno al cervello. Quando questo ossigeno o questi nutrienti arrivano in maniera poco sufficiente al cervello abbiamo delle patologie cerebrovascolari che rappresentano la terza causa di morte nei paesi sviluppati dopo le malattie cardiovascolari e le malattie neoplasiche e che possono derivare da vari processi patologici che interessano i vasi cerebrali che possono essere o legati a stenosi ad alterazioni intrinseche dei vasi e quindi la teroscleresi, celebrare, la lipoialinosi o un quadro di natura infiammatoria, le vasculiti cerebrali come sappiamo essere presente nel covid la deposizione di sostanze amiloidi o di colesterolo che creano questa stenosi oppure possiamo avere una dissezione, una dissecazione dell'arteria possiamo avere delle anomalie dello sviluppo possiamo avere delle dilatazioni aneurismatiche cioè come una estroflessione del vaso che forma appunto un aneurisma che può rompersi e quindi determinare un'emorragia oppure possono essere legata ad una trombosi sia arteriosa che venosa anche una trombosi che può originarsi in altre sedi per esempio a livello cardiaco da cui possono partire degli emboli oppure possiamo avere una riduzione della pressione perfusionale o un aumento della pressione nell'ipertensione o malattie di tipo ematologico legate ad un aumento della viscosità ematica che cosa succede quando questo vaso non compie più la sua funzione nutriente e di apporto di ossigeno e di altri metaboliti al cervello abbiamo il cosiddetto ictus cerebrale che può essere legato ad una causa di tipo ischemica oppure ad una causa di tipo emorragico l'ictus è un danno neurologico acuto che può risultare dai vari processi patologici di cui abbiamo parlato in precedenza che si può manifestare quindi o come un infarto cerebrale oppure come una emorragia uno stravaso di sangue che inonda il cervello che lede le varie zone del cervello e che può avere sintomatologie diverse a seconda delle varie aree del cervello che sono preposte e sovraintendono alle varie funzioni del nostro comportamento di solito l'80% degli ictus è di natura ischemica il 20% è di natura emorragica e quindi è molto importante all'inizio fare una corretta diagnosi per poter ovviamente fornire una giusta terapia abbiamo alcuni fattori di rischio per l'ictus cerebrale e questi fattori di rischio si distinguono tra i fattori di rischio modificabili e i fattori di rischio non modificabili tra quest'ultimi sicuramente l'età è uno dei principali fattori il sale, l'ictus, il rischio di ictus in maniera esponenziale con l'età negli ultra 65 anni ha un'incidenza maggiore nei soggetti di sesso maschile ci sono delle razze e quindi dei fattori genetici che possono in qualche modo influire sulla maggiore frequenza dell'ictus quindi la familiarità ha un ruolo importante esistono altri fattori che sono modificabili l'ipertensione la possiamo modificare con la dieta e con gli antipertensivi la cardiopatia possiamo modificarla con gli antiaggreganti piastrinici la fibrillazione atriale che è uno dei principali fenomeni di tipo ischemico e possiamo dare degli anticoagulanti degli antiaritmici il diabete mellito l'ipercolesterolemia l'inattività fisica il fumo il consumo di alcol un'astenosi della carotide asintomatica e quindi l'importanza di fare eventualmente un doppler che ci consente di valutare il flusso cerebrale e un fattore spesso che poi può portare ad un ictus completo è l'attacco ischemico transitorio dei fattori di rischio potenziali dell'ictus sono legati alla emicrania l'uso di controaccettivi orali la tossicodipendenza e anche la difficoltà nel sonno con problemi di russamento che spesso sono legati in soggetti obesi che hanno una sindrome delle apnee notturne che disturba il sonno ma disturba anche la circolazione cerebrale esistono oggi numerosi geni che sono coinvolti nella patogenesi dell'ictus ma un aspetto un dato importante è quello di riconoscere un attacco ischemico transitorio che spesso è misconosciuto e che può essere una delle cause che predispongono poi ad un ictus acuto l'attacco ischemico cerebrale transitorio è caratterizzato come vari disturbi da una cecità da una ipostenia da una paresi da una difficoltà transitoria nel parlare e da disturbi visivi e questo è transitorio mentre l'ictus nella parte posteriore del cervello il tia nella parte posteriore del cervello è caratterizzato da una ipostenia bilaterale da tassia da deficit della vista e da vertigini da diplopia ora l'ictus di solito è caratterizzato da disturbi della parola da emiparesi il faccio brachio crurale quando l'ictus avviene nella parte dominante del cervello quindi nell'emilato di sinistra è caratterizzato quindi da una lesione ischemica di un'area più o meno grande del cervello che ha un'area intorno di una cosiddetta penombra meno alterata e quindi è molto importante in questi casi poter cercare di rivascolarizzare immediatamente queste aree che sono state lese e lo possiamo fare se il paziente arriva entro tre ore in ospedale dove è possibile fare una trombolisi cioè eliminare il trombo che ha occluso quest'arteria rivascolarizzare questa zona ed evitare che il danno si manifesti nella sua forma più grave che possa dilatarsi in altre aree del cervello e quindi ledere in maniera perenne i neuroni le indagini strumentali che devono essere fatte nel caso di una lesione un ictus cerebrale sicuramente l'ecocolordoppler dei vasi dei grossi vasi del collo una TAC cerebrale che ci consentirà di distinguere l'emorragia dalla ischemia una risonanza magnetica un angio risonanza magnetica e un angio TAC che possono inquadrare farci inquadrare bene la problematica sicuramente nella fase acuta è necessaria una terapia di tipo trombolitico quindi intanto con un approccio generale cercando di evitare le complicanze che possono insorgere all'ictus cercare di mantenere la pressione su dei livelli normali cercare di consentire la ricanalizzazione dell'arteria che è stata ostruita eliminando l'edema che è presente nell'area lesa una terapia quindi con trombolisi una terapia endovascolare con standing carotideo e una terapia poi antiaggregante che sarà una terapia di natura cronica o anticoagulanti orali l'emorragia invece è determinata da una violenta rottura di un vaso che può essere legata a varie cause dai farmaci da malformazioni vascolari da tumori da traumi e che si manifesta con un quadro acuto di lesione cerebrale quindi di sintomatologia di tipo lesionale che spesso può portare ad una sospensione della coscienza quando il sangue inonda i ventricoli e determina quindi una sintomatologia molto grave la terapia e il controllo della ipertensione la prevenzione di convulsioni che possono avvenire la terapia anti-edema per ridurre al massimo l'edema cerebrale intorno alla lesione e la terapia di asportazione chirurgica dell'ematoma quando questo ematoma è esteso in una emorragia intra-parenchimale un altro tipo di emorragia infine è l'emorragia subaracnoidea in cui c'è il sangue degli spazi che circondano il cervello per rotture di aneurismi o di microaneurismi e qui la sintomatologia prevalentemente caratterizzata da cefalea da perdita della coscienza da una sindrome meningea ed il trattamento e cercare di evitare il risanguinamento attraverso un intervento chirurgico per risolvere gli aneurismi che possono aver dato questo e attraverso una correzione del vasospasmo con dei farmaci adeguati dopo l'ictus l'approccio è terapeutico ma è soprattutto riabilitativo per poter rieducare le zone del cervello che sono state lese e quindi la parola da un punto di vista psicologico anche la motilità la forza e quindi il ridurre le emiparesi e riportare il paziente a poco alla volta a poter camminare autonomamente buonasera a l'iniparesi la forza a l'iniparesi o la forza e la forza Grazie a tutti.